ciao a tutti bentornati alla mia cucina oggi vi presento con la pasta sfoglio una torta da spirale come ingrediente abbiamo due pasta sfoglia io per ora ne ho una qua l'ho tagliata in tre e ora metto sopra una rastretta di pasta sfoglia qua ho fatto la dieta cucinata con un pochettino l'ho saltata in padella con un filetto d'olio dei cubetti di prosciutto qualche patata messa e del pomodoro secco ora metto un pochettino a sopra e un pochettino di formaggio ho messo pure dopo aver messo l'impasto ora cerchiamo di chiudere per bene poi io ne faccio un altro con la mortadella e della scamorza e questo lo andrò a fare con salame o con prosciutto voi potete adoperare anche altri condimenti ho preso una tortiere dal diametro 24 con carta forno sotto e ora mettiamo tutto attorno continuate così fino a che finisce che si chiude la tele ed ora lo spennellato con un tuorlo d'uovo e poi ogni strato faccio uno strato di semi di papavero e uno di 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 sesamo ed ora inforniamo forno caldo 200 gradi per un 30 40 minuti ed ecco pronta la nostra torta a spirale vedete qua c'è la verdura il rotolino col formaggio e prosciutto salame è davvero una bella idea io mi auguro la potete provare mi scrivete nei commenti se vi piace se non vi piace come vi è venuta un bacione da Francesca Salvatore ciao alla prossima